Ciao a tutti e benvenuti in pochi minuti al viso d'inizio, vediamo insieme i protagonisti del match. Arbitrano incontro il signor Dallapenna, assistenti i signori di Olo e Caliani, quanto un ufficiale del signor Volunti, il signor Dipenno, assistente dalle signori di Olo e Calasso. Comunichiamo le informazioni delle squadre. De noi, ammettere con il Pionici, o di come uno su tre strade, anche con il patto veloce, numero 5, Faraone, con il numero 10 di Carmina, numero 13, Anno, numero 12, Ferrele, numero 20, Zaccani, con il numero 21, Cogna, con il numero 24, Pumbo, con il numero 34, Bravante, con il numero 88, Lasovic. A disposizione il 2.000 di Vito Penaldi, con il numero 96, Linovic, tre di tale, con il numero 8, Ederson, 11, Pazzini, con la maglia 1, diciamo in tutta, 25 tanti, con il numero 26, Detaino, con il 32, Pessina, numero 33, con il 66, e con il numero 98, Aggiapò. azz, Bvi, azz, 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 Grazie a tutti Juventus Anagone Maurizio Oniglio 1,67 Gianluigi 1,7 Cristiano No. 8 Aron Numero 10 Uomo Imbara Numero 12 Alex Numero 13 Da Silva Marino Numero 14 Blaise Marino Numero 16 Kun Numero 19 Leonardo Morucci Numero 28 Meri Terminale Numero 30 Rodrigo Numero 15 Numero 15 A disposizione con il numero 16 Le